Massimiliano Mercanti L'azienda si chiama StarRC, c'è un sito di internet www.starrc.it Abbiamo la nostra sede a Ponteranica in provincia di Bergamo, è un paesino proprio attaccato alla città di Bergamo Siamo i distributori dal primo gennaio del 2017 e abbiamo tutte le intenzioni, ci metteremo tutte le nostre disponibilità sia economiche che di volontà di lavoro di riportare il brand Serpent, che è uno dei più storici al mondo in questo ambito, ai livelli che giustamente merita Serpent per fortuna dopo una lunga trattativa ci ha dato fiducia, ha creduto nel nostro progetto, in quello che noi gli abbiamo messo sul tavolo come progetto appunto, come disponibilità economiche, come voglia di fare e dal primo gennaio appunto siamo partiti, abbiamo appena finito la ristrutturazione di tutto il nostro magazzino in questa settimana arriveranno i computer nuovi con il gestionario del magazzino, i primi ordini sono arrivati, i ricambi sono arrivati siamo già in contatto con diversi negozi per prendere accordi commerciali invito tutti i negozi a cui non ho scritto o telefonato di farlo, un accordo con noi lo si trova sempre facilmente dobbiamo mettercela insieme a voi, dobbiamo metterci la forza e la volontà di riportare questo brand a livello che merita mi ringrazio, è stato molto molto preciso, la cosa che si voleva, questa notizia la si attendeva da un po' di tempo perché si sapeva che Sprint aveva lasciato questo brand, quindi c'era un vuoto che era veramente da colmare al più presto quindi bene hai fatto a chiedere ai negozianti di contattarti e soprattutto bisognerebbe informare anche che questo brand ha tantissimi tipi di modelli, vero? Potremmo vederli sul sito magari? Noi abbiamo un sito internet che adesso è in fase di costruzione ci sono solo pochissime pagine attualmente disponibili perché stiamo facendo una cosa il più possibile in collaborazione anche con una persona che ci ha dato direttamente la Serpent come dicevi giustamente abbiamo scelto anche il marchio Serpent, uno perché io lo amo da tantissimi anni ma perché la Serpent è uno dei pochi marchi che spazia dagli RTR economici alle macchine da gara che è 748, 977 Viper, fuoristrada SX8, poi tutta la parte SX4, SX2 del fuoristrada 1A10 ha una gamma forse la più completa in assoluto nel mondo del modellismo Bene, noi aspettiamo di vedere subito questo insieme di modelli sul sito i negozianti li invitiamo ancora una volta a contattarti così magari gli potrai mandare i tuoi listini e dicevo, prima parlavamo, prima che iniziassi l'intervista ci hai anche detto che per quanto riguarda i ricambi ci sarà una velocissima disponibilità Allora, attualmente per quanto riguarda l'ambito pista abbiamo quasi la totalità dei ricambi disponibili in buona quantità siccome siamo ancora in fase un po' così potrebbe capitare che qualcosa non c'è nell'arco dei prossimi uno o due mesi avremo la 100% di 748, 977 tutto disponibile a magazzino e spedizioni in un giorno di lavoro Perfetto, e nel caso tu non avessi un ricambio che tempi ci vorranno per averli dalla casa madre? Allora, noi facciamo mediamente due ordini al mese il che vuol dire che al momento che noi facciamo un ordine alla Serpent se non ci viene fermato in dogana in 5 giorni ce l'abbiamo in sede e dunque in 6, massimo 7 è spedito Perfetto, penso che sia proprio quello che i negozianti volevano sapere anche tanti modellisti chiamano questo marchio così come l'amito noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti ringraziamo per essere stato così gentile da essere venuto qua da noi Grazie a voi, aspetto i negozianti crediamo in questo marchio Grazie 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 Grazie